Ciao a tutte ragazze, allora eccomi qui con un nuovo video haul che riguarda alcuni prodottini di make up, cura del corpo, capelli, bellezza, accessori eccetera eccetera iniziamo subito altrimenti il video viene davvero lunghissimo perché ho tanti prodotti da mostrarvi il primo prodotto che ho acquistato è questa maschera per capelli della ultra dolce questa qui all'estratto di mango e tiaree per capelli secchi e sciopati nutre e ripara e rende capelli brillanti, maschera riparatrice intensa da risciacquare allora io inizialmente volevo acquistare quella dei provinciali ai semi di lino poi la mia scelta è ricaduta su questa qui perché l'odore è davvero paradisiaco e poi volevo utilizzarla solo sulle punte perché come sapete è una cute grassa siccome vedo i miei capelli un po' secchi volevo nutrirli un po' con una maschera quindi ho acquistato questa qui per 3,50 euro e poi vi farò sapere come vi troverò con questo prodotto poi altri prodotti che ho acquistato come vi ho detto nell'altro video con shampoo e balsamo dell'altra dolce della linea 5 piante a lungo andare mi sono trovata male perché mi ha seccato ed escomato la cute quindi volevo dei prodotti più delicati sempre dell'altra dolce perché a me piace tantissimo questa linea poi sono economici altrettanto validi ed ho acquistato questi due prodottini shampoo e balsamo all'estratto di camomilla in miele per capelli chiari che ravviva i riflessi non l'ho preso per ravvivare i riflessi o altro perché io non è che ami tantissimo il biondo come sapete però l'ho preso perché secondo me la camomilla è delicata sui capelli e infatti già li ho utilizzati due o tre volte come potete vedere e devo dire che mi sta risolvendo il problema nel senso che non ho più la cute descomata e secca ma mi ci sto trovando davvero bene con questi due prodotti però come l'altra volta non mi sbilancio troppo perché un prodotto va provato e riprovato per darne davvero un'opinione comunque questa è la prima impressione poi come sapete ho trovato il giornale grazia con il mascara hypnose di lancome hypnose star di lancome questo quel piccolino e l'ho acquistato ad un euro curiosissima di provarlo anche perché Giovanna si è trovata benissimo poi un altro prodotto che ho acquistato ho pagato soltanto 80 centesimi e questo solvente formula senza acetone doppia azione solvente per smalto da unghie con calcio della Parisienne questo qui contiene 125 ml di prodotto senza acetone e sono curiosa di provarlo quando appunto mi terminerà quello lì della Sienne poi ho acquistato un portapenne dai cinesi e l'ho pagato soltanto 1,50 euro nasce come portapenne ma io l'ho utilizzato come portapennelli non so se si vede ma secondo me è davvero carinissimo ed è di questo rosa più chiaro, rosa più scuro, molto carino e qui ci ho visto tutti i pennelli da viso secondo me è davvero un'ottima alternativa ad un portapennelli poi ho acquistato all'Ocean, c'era uno sconto sui prodotti Garnier e ho preso questa crema Fresh Essential crema idratante continua 24 ore all'estratto 2, vitamina E per pelli normali e miste qui c'era questo sconto di 1 euro ma in realtà scadeva il primo settembre quindi era buono che è scaduto comunque l'ho pagata soltanto 3,80 euro perché c'era questo sconto ed era davvero curiosa di provarla qui c'è scritto pelli miste, vediamo un po' se va bene per la mia pelle grassa perché per il prezzo comunque l'ho voluta provare nel caso se non mi trovo bene la utilizzo come crema da notte poi un altro prodotto che ho acquistato è questo pettine in legno della linea naturale della Emanuela Biffoli ho buttato via la confezione perché lo sto utilizzando da un bel po' comunque è della Emanuela Biffoli l'ho trovato in una profumeria ad 1,80 euro quindi un prezzo davvero ottimo secondo me era alla ricerca di un pettine in legno che non rovinasse, non spezzasse, non elettrizzasse i capelli e l'ho trovato e mi ci sto trovando davvero benissimo poi sempre delle Emanuela Biffoli siccome come sapete ho acquistato l'altra volta delle ciglia finte volevo una buona colla era alla ricerca di quella dell'Ardel ma non l'ho trovata la duo costa troppo e ho trovato queste qui delle Emanuela Biffoli che in realtà sono due tubettini piccolini di colla questa è trasparente sono davvero piccini sono curiosa di provarla anche perché l'Emanuela Biffoli mi sembra una buona marca sono piccolini e sono contenta di averli trovati così perché non ho intenzione di utilizzare le ciglia finte spessissimo quindi non volevo che mi si seccasse la colla e quindi questa è un'ottima alternativa e l'ho pagata in circa 1,50 euro e sono curiosa di provarla poi altri prodottini che ho acquisto dai cinesi ogni tanto e mi va a dimostrarveli sono questi Memo Stick che in realtà sono dei post-it piccolini quelli che si mettono nei quaderni di questi quattro colori rosa, arancio, giallo e verde molto carini questi qui li ho pagati 70 centesimi e sono 400 post-it perché ogni colore ne contiene 100 solo che non appiccicano benissimo infatti si staccano peccato comunque per 70 centesimi ma non più che bene poi ho acquistato all'Ocean ad 1 euro questo portaviti così in verde che colore potevo sceglierlo non c'era il rosa per abbinarlo alla stanza quindi l'ho preso verde questo qui appunto è questo portaviti che è diviso in scomparti l'ho preso o per metterci gli orecchini quelli lì a bottoncino piccolini oppure nel caso si dovesse rompere l'ombretto li deposito qui dentro poi altro prodottino che ho acquistato sempre dai cinesi è questa pinzetta che secondo me è ottima per applicare le ciglia finte per aiutarti appunto nell'applicazione e questa qui l'ho pagata 70 centesimi poi ho postato anche la foto su facebook ed ha riscosso un grande successo è questo scalda mani a forma di ranocchio molto carino questo qui l'ho acquistato da Casanova ad 1 euro e 35 aveva lo sconto comunque molto carino perché ha dei liquido all'interno c'è tipo un pulsantino che si schiaccia si solidifica e si riscalda e poi va sciolto in acqua bollente per farlo ritornare come prima e l'ho preso a forma di ranocchio anche perché era verde e poi era simpaticissimo davvero poi per il prezzo che ha conveniva poi ho preso a Iperfamila un supermercato vicino a casa mia aveva in sconto dei produttivi della Selex un marchio che si trova in questi supermercati aveva queste salvecchie struccanti questi qui sono 20 pezzi in cotone sottritte dermatologicamente e oftamologicamente testate 100% cotone erano in offerta due pacchetti ad 1,50 euro quindi ho deciso di provarli e di prenderli poi ho preso sempre a questo supermercato i dischetti di cotone c'erano due pacchettini ad 1 euro quindi ogni pacchettino aveva 70 pezzi ne ho presi due uno per me e uno l'ho preso mia mamma e ancora devo provarli però comunque il prezzo mi sembrava abbastanza valido poi sono andata da Eurospin ed ho acquistato di nuovo questa lacca della Nier questa qui tenuta extra forte col packaging verde perché mi ci sono trovata abbastanza bene solo che questa appiccica un pochetto e quindi è ottima per quando voglio tenere un'acconciatura su per molto tempo poi ho preso questa qui arancione questa qui è tenuta forte che dovrebbe essere un po' più leggera queste qui le pago 99 centesimi ciascuna quindi 1 euro è davvero conveniente e poi da Lidl invece ho preso il contorno occhi della Isere questo qui davvero conosciuto sensitive crema contorno occhi priva di profumazione coloranti con filtro solare UV curiosissima di provarlo perché mi è terminato quello di l'HQ e ho deciso di prendere questo l'ho pagato all'incirca 2 euro 50 2 euro 80 poi ho acquistato questo pennellino della seta blu questo qui angolato da eyeliner e l'ho pagato soltanto 1 euro e ne ho preso uno anche per voi poi una sorpresina più in avanti poi ho acquistato in farmacia questo gel per le mani dell'umana igienizzante che costava solo 1 euro con estratto di camomilla e malva questo qui è comodissimo da tenere in borsa ogni tanto per detergere le mani oltre alle salviettine perché io sono un po' fissata con l'igiene delle mani e poi infine ho acquistato di nuovo il mio bagnoschiuma DAV questo qui piacere avvolgente a latte di cocco e petali di gelsomino perché come sapete lo adoro scusatemi ragazze se vado di fretta ma la batteria mi si sta scaricando quindi spero che questi acquistini vi siano piaciuti per qualsiasi info lasciatemi pure un commentino riceverete sicuramente una risposta e niente io vi mando un grosso bacione e alla prossima ciao ragazze